Ci conforta il fatto che ella abbia teso la mano agli ebrei di tutto il mondo e in particolare a quelli di Israele. In questo momento di grande sofferenza è il passaggio centrale di una lettera scritta da un gruppo di rabbini e di studiosi del dialogo ebraico cristiano a Papa Francesco. Nel documento di cui dà conto oggi l'osservatore romano in prima pagina, si sottolinea anche l'impegno di Bergoglio nell'opporsi attivamente all'antisemitismo e all'antigiudaismo che negli ultimi mesi hanno assunto dimensioni impensabili fino a poco tempo fa. I rabbini di Francoforte, di Gerusalemme, di Chicago e di Parigi ricordano nel testo lo sforzo della Chiesa per coltivare comprensione dove un tempo c'era rivalità, amicizia dove un tempo c'era animosità ed empatia dove un tempo c'era disprezzo che ha trasformato le comunità ebraiche e lasciato un'impronta duratura. La lettera è una risposta alla missiva inviata il 2 febbraio scorso da Papa Francesco ai fratelli e alle sorelle di Israele in cui il pontefice assicurava la sua vicinanza al popolo ebraico precipitato in una spirale di violenza senza precedenti dopo il 7 ottobre 2023. Lo stesso gruppo di rabbini aveva già scritto al pontefice nel novembre scorso per chiedere una rinnovata solidarietà alla luce dell'antisemitismo registrato in varie parti del mondo. La lettera diffusa oggi si conclude con un invito a pregare per la pace e per quanti ora sono nell'afflizione. Grazie 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 Grazie